Peraltro l'autorizzazione per dragare gli interni del porto di Portempedocle è sopraggiunta adesso dopo 20 mesi di attesa. Eh sì, anche questa è una cosa che ci lascia esterefatti. Perché? Perché la nostra collettività, per avere un riscontro, seppur dietro l'interesse anche di un privato, deve aspettare tutto questo tema. Noi sembra assurdo, sembra assurdo, sembra assurdo come è assurdo il fatto che per il Solare noi non abbiamo un'autorizzazione, sembra assurdo come una fabbrica che abbiamo costruito non sia stata presa nell'attenzione della parte della regione siciliana, sembra assurdo come il fatto che qualche d'uno ritenga, forse non potendo incidere su altri aspetti della nostra attività, di incidere sulla nostra onorabilità. Il fatto dell'intervento dell'onorevole Lumia in Commissione parlamentare antimafia è grave, ci offende e ci offende ancora di più sapendo il grande rapporto di amicizia che allumia con l'assessore Venturi. Per cui ci sembra che sia qualcosa che sia abbastanza ordito e a cui Conventusia non ha preso una posizione ben precisa e ben particolare. E quindi questa è anche una delle motivazioni per cui materialmente ci siamo tirati fuori da questo discorso per essere a questo punto liberi battitori per poter fare quello che riteniamo più opportuno per poter tutelare la nostra attività di impresa. Ecco le sue parole. Confindustria non ha assunto nei confronti di tutto ciò una posizione radicale, una posizione netta. e quindi voi avete assunto delle posizioni conseguenziali che sono state tra l'altro le sue dimissioni dall'esecutivo di Confindustria. Giovanni Falcone ricordava la pericolosità dell'isolamento in Sicilia. E allora adesso come si coniuga l'isolamento tra virgolette di Moncada? Nel senso le dimissioni dall'esecutivo di Confindustria in rotta con l'assessorato regionale all'industria, con Marco Venturi. Quali sono le prospettive? Lei poc'anzi ha citato il termine battitore libero. Sarà sufficiente? Ma guardi, noi abbiamo la grande fortuna di operare in un settore molto innovativo. Siamo all'avanguardia in questo settore. Quindi sicuramente nella mia mente c'è quello di organizzarci a breve e dare priorità ad attività che si fanno fuori dalla Sicilia. Ovviamente non possiamo indestardirci sul tentare di fare cose qui che non ci fanno fare. La fabbrica è in Sicilia, produrrà in Sicilia, caricherà i suoi pannelli sul porto di Porto Embevo, speriamo nel frattempo che l'avremo dragato. E dopo di che andranno in Bulgaria, andranno in Romania, andranno in Tunisia, andranno in Turchia, andranno in altre parti del mondo. E lì probabilmente riusciremo ad ottenere, come già sta succedendo anche in America dove abbiamo chiuso ieri un accordo per circa 400 ettari nel settore del Moave. Quindi probabilmente riusciremo ad ottenere più riscontro. Purtroppo c'è un grande rammarico, sicuramente un grandissimo rammarico nel fatto che un principio, che quello qui si fa in presa, se lo dico io, voglio dire passi. Questo è un grandissimo rammarico. Speriamo che qualcuno non ritenga, soprattutto che è successo nel passato, e mi riferisco ai delinquenti veri, ai mefosi veri, non ritenga che in questo momento noi siamo più debole. Fino ad oggi sono stati lontani dalle nostre attività, speriamo che non ci sia una recrudescenza da questo punto di vista. Sicuramente questo è uno di quei fattori che io ho messo, chiudendo nella lettera con l'amico mio, Ivan Lobello. Ho detto che nessuno può pensare di utilizzare l'antimafia per far decidere chi fare e non fare l'impresa. L'antimafia non è una cosa su cui si può scherzare. L'antimafia è antimafia, poi ci sono altre situazioni che vanno separate da lotte di potere e di prevalza sul settore imprenditoriale. Queste riguardano altri. Penso che noi dovremmo attenzionare allo sviluppo di questa terra e il fatto che i delinquenti restano fuori dalle porte delle nostre aziende. Una dimensione quindi internazionale salverà e in un certo qual modo compenserà il ritardo e le omissioni che purtroppo avete riscontrato in Sicilia? Non c'è dubbio. Tenga conto che purtroppo, io lo dico sempre, quello dell'energia rinnovabile sta diventando un'altra occasione perduta per la Sicilia e non per noi. Perché noi, come l'ho detto, riusciamo a dare occupazione ai nostri collaboratori. Ma l'energia rinnovabile poteva essere anche un fattore di diversificazione dell'attività di numerose aziende siciliane. Oggi non è successo, non si sono dati questi strumenti e il conto energia, che è quello che incentiva l'energia da fondi rinnovabili per il solare, materialmente dal 2010 finisce, fine del 2010 e viene abbassato nel prossimo anno e quindi renderà meno interessante per gli investitori questo tipo di iniziativa. E quindi, come lei comprende, è un'occasione perduta. È un'occasione perduta. Ivan Lobello, le ha risposto? Ivan non mi ha risposto, ma presumo che lui si sia sentito ferito alla mia lettera e ha ragione da questo punto di vista. Perché vi devo dire che lui nell'ultimo anno ha fatto salti mortali, soprattutto su alcuni temi, per esempio il parco eolico di Cattolica Ereclea, dove noi abbiamo riscontrato che per uso capione alcuni personaggi, segnalateci dalla Prefettura, avevano preso i terreni. E guardate un po' la beffa, per spostare le macchine su altri terreni abbiamo chiesto la variante alla regione siciliana e ci è stata data dopo due anni e mezzo. E ci è stata data dopo due anni e mezzo con un grande interesse e una forza e ostinazione da parte del Presidente Lobello, di Ivan Lobello, perché non ci si voleva approvare la variante. Cioè noi avevamo un progetto autorizzato per questione di malavita, lo abbiamo spostato, abbiamo fatto le denunze, abbiamo fatto tutto, nonostante questo fosse a conoscenza dei funzionari, e non solo dei funzionari, dei vertici della regione siciliana, non si voleva approvare questo progetto. In questo c'è stata una grande forza e pressione da parte di Ivan Lobello nei riguardi soprattutto del Presidente della regione. Di questo lui mi è testimone e io sono testimone della sua attività. Probabilmente lui si è sentito ferito di questa situazione, ma io ho una grandissima stima e so che quello che lui sta facendo lo fa mediando delle posizioni che probabilmente molto spesso non sono sue. Presidente Moncada, lei poc'anzi ha citato la mancata assunzione di una posizione netta e radicale da parte di Confindustria nei confronti di tutto ciò che è accaduto recentemente, nel suo ambito ovviamente. Secondo lei, Confindustria in Sicilia, nonostante i progressi di contenuto e di azione degli ultimi anni innegabili, la svolta antiracket ad esempio, nonostante tutto ciò, Confindustria in Sicilia, in quanto associazione sindacale, in un certo qual modo corporativa, risente ancora di condizionamenti da parte della politica, di palle di piombo al piede quantomeno inconfessabili? Non c'è dubbio. Vedete qua il problema più grosso della Sicilia è che l'85% dei rapporti di natura lavorativa delle imprese sono pagati alla pubblica amministrazione. E questo ovviamente condiziona il comportamento di moltissimi imprenditori, perché ovviamente non possono dire veramente quello che pensano perché probabilmente perderebbero il contratto, non avrebbero... e così via. Noi l'unico fattore di condizionabile è solo nel rilascio dell'autorizzazione, tant'è che non riceviamo autorizzazione. L'eolico fa male, non ce lo rilasciano, il solare non va male, lo vogliono tutti e non ce lo rilasciano ugualmente. E allora, sa, questo fa pensare che materialmente noi non vogliamo essere condizionati e ci creano questi problemi. Altri, purtroppo per ottenere in altri settori quello che dovrebbe aspettare probabilmente per legge, è meglio che non dicano quello che stanno pensando. Questo è il vero problema. E' un problema su cui noi ormai lottiamo da tempo e non riusciamo ovviamente a far passare questo messaggio, perché diventa un messaggio che molto spesso la politica non vede di buon occhio.